Salve a tutti amici di Kipto Jam e benvenuti a questo nuovo video, oggi riprendiamo un po' con le solite notizie e l'analisi dei mercati, andremo a vedere alcune cose importanti. Intanto oggi c'è stato il CPI, quindi sapete comunque andremo a parlare dell'inflazione, in questo momento come sta andando e il HEAD CPI, che è questo qui, quello che include anche l'energia, come vedete ha cominciato ad alzarsi un pochino, ovviamente questo è dovuto anche al fatto che il petrolio, come avete visto, anche per la situazione della guerra in questo momento, ma in verità lo stava già facendo da prima, era bullish, infatti abbiamo preso anche un long ancora prima di sapere della guerra. Come vedete in questo momento sta andando verso l'alto, quindi il HEAD CPI è andato su, mentre invece il CPI Core, quello Exclusive Food and Energy, è andato leggermente giù annualmente, mentre a livello mensile è rimasto invariato dall'ultima volta. Quindi, situazione, secondo me, al momento ci sarà un ulteriore rate hike e poi si stabilizzeranno e aspetteranno di vedere cosa succede. Sicuramente con la situazione della guerra non è uno dei momenti migliori per capire sicuramente se è il caso di fermare o aumentare questo rate hike, e penso che la FED avrà un ulteriore livello di difficoltà, ovviamente che si aggiunge al fatto che adesso vogliono stanziare nuovi fondi per la guerra, che ovviamente crea più inflazione, comunque questi soldi, chissà da dove li prenderanno, e metterà più pressione all'economia. Ovviamente alcuni stock abbiamo visto gioire, alcuni stock, comunque stock che sono inerenti al petrolio o alla guerra, e oggi andiamo a parlare anche di crypto, quindi andiamo a vedere alcune cose intanto a livello macro. Allora, come vediamo in questo momento, molti si aspettano uno scenario comunque per i buy sull'S&P 500, adesso andiamo a vedere anche sul chart, perché il chart è molto dubioso al momento. Gli smart money contro i dump money, come vediamo c'è stato un buy di dip, adesso andiamo a vedere anche molto tecnico questo buy di dip, perché si vede sul chart esattamente dove hanno cominciato a comprare, in maniera molto tecnica, invece i dump money, come vedete, stavano vendendo in questo caso, infatti noi la settimana prima, durante i dump, come avete visto, noi abbiamo seguito esattamente quello che fanno le smart money, e abbiamo cominciato a comprare, infatti siamo usciti anche, siamo usciti a chiudere alcune delle nostre posizioni in game, queste sono le nostre ultime chiusure ad ottobre, come vedete qui abbiamo fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6 chiusure, addirittura una delle posizioni che avevamo da aprile, come vedete, e quindi ci ha dato la possibilità ovviamente questo dip di comprare alcune materie prime, come per esempio il petrolio, l'oro e altre cose, e pareggiare alcuni stock che avevamo ancora aperto. Allora andiamo a vedere, il numero di filing per bancarotta è al massimo del 2008 e del 2020, come vedete in questo momento, quindi ci sono un sacco di compagnie che in questo momento stanno facendo il filing per la bancarotta, cosa che bisogna stare attenti, perché comunque come ho sempre detto, questo secondo me sarà un lunghissimo bear market, molto più lungo di quello che si pensa, so che molta gente parla, l'anno prossimo tagliano e c'è il halving e quindi 100% nel 2024 ci sarà un pump, ovviamente non è mai così semplice né così bello, se siete sul mercato da parecchi anni come me sapete che ovviamente quando una cosa sembra troppo ovvia, per essere vera, non è vera, ok? Quindi non succede. Altra cosa, per quanto riguarda il rate hike, andiamo a vedere il Fed Funds Rate, gli aspettativi sono, come vediamo qui, già dall'anno prossimo per il 2024, verso comunque febbraio, marzo più che altro, cominciare a fare i primi tagli, come vedete queste sono proiezioni ovviamente, potrebbe cambiare, comunque come vedete per andare verso il 2025 in questa zona qui, per poi ovviamente arrivare alla zona dei 4, 3,75 e stabilire i tassi di interesse. Comunque andiamo a vedere se sarà proprio così, comunque sicuramente la gente non inizierà a investire quando questo succede, lo vedremo molto prima sui chart, per quello che è importante seguire i chart a livello tecnico. Ricordate ragazzi che questo è un bear market e non è facile da tradare né da investire, ok? Quindi dovete sapere cosa fare. In effetti noi facciamo un grandissimo di lavoro nella community, se volete unirvi sapete già, c'è il link sotto in descrizione. Comunque facciamo un grosso lavoro nella community per poter gestire questo bear market al meglio, perché ovviamente poi nel bull market vogliamo sfruttare il 100% della situazione. Altra cosa ragazzi, per le crypto se vi interessa c'è la promozione di Bybit per ricevere 100 USDT, poi dipende dal deposito che fate e trovate sempre il link sotto in descrizione. Poi per quanto riguarda invece i chart, andiamo a vedere una cosa interessante. Dopo i dati di oggi ci sono stati due movimenti da tenere sotto controllo. Uno è stato il DXY, il DXY ha fatto un pump, come vedete dopo la rottura, infatti aspettavo che mollava questa zona, non ha mollato questa zona, addirittura ha fatto un mega pump, come vedete, e ha retto molto molto bene. Quindi bisogna vedere se questa chiusura chiude al di sopra, oppure questa qui viene rigettata al di sotto della zona dei 105. Se andiamo a fare un Fibonacci extension, un Fibonacci tracement in questa zona, potrebbe essere che arrivi tra qui e qui e venga rigettata. Magari questa chiude su e quella di domani chiude sotto. Allora questo vorrebbe dire che il regiatto è ancora in corso. Invece se quale di domani conferma la chiusura al di sopra della trendline, allora molto probabilmente fake out per una continuazione a rialzo. Questo non è estremamente bullish. Però come vediamo in questo momento abbiamo anche gli earning, che andremo a vedere in questo momento. Poi per quanto riguarda il Nasdaq, il Nasdaq continua a salire. Come vedete questa è la mia zona, dove voglio vedere una reazione del Nasdaq. Molto possibile che con la storia della guerra adesso, come ho detto, non bisogna frettarsi a cercare di indovinare cosa farà con la storia della guerra. Perché ovviamente basta che una legge o il congresso o qualunque cosa succede durante la notte e questo te lo ritrovi o quassù o quaggiù. Quindi siamo in una situazione estremamente incerta. Quindi come vedete nel caso possa bucare quest'area, come vedete non c'è nessun segno ancora sul giornaliero di un pullback. Come vedete potrebbe arrivare in questa zona qui e poi lì potrei iniziare una nuova posizione. Vediamo se inizia una posizione short. Mio errore è stato non prendere questo, ma la settimana scorsa, questa settimana, non ho avuto la testa per varie ragioni. In senso che comunque non ero molto in sintonia con i mercati. Ho avuto problemi a seguire il sito. Poi la storia della Palestina, come sapete, è una storia che mi sta a cuore. Comunque come vedete c'è stato un bellissimo double bottom. Comunque avevo segnalato la rottura con il ritest. Quindi chi era dentro la community e voleva approfittarne. Sapevamo che andava su. Le mie probabilità di buy erano molto più alte di quelle di short. E come vedete ha rotto il box e è arrivata qui. E adesso in questo momento la scenario è il seguente, ok? In cui potrebbe essere gettata. Però vogliamo vedere come è il rigetto, se ci sarà un rigetto. O potrebbe addirittura arrivare qua su creando un fake out per poi scendere verso il basso. Essendo che ci sono anche gli earning, nello stesso momento c'è la guerra. Questo momento io vorrei giocarlo un po' più sulle conferme e aspettare quando il mercato è un po' più tirato. Quindi voglio che il mercato sia più tirato possibile. Poi andiamo a vedere invece come sta performando Bitcoin. Perché Bitcoin lo sta performando esattamente molto molto bene. Io ero leggermente più bullish che bearish, lo sono ancora leggermente più bullish per alcuni motivi. Intanto c'è una confluenza qui. Come vedete c'è stata la rottura della trendline, c'è una confluenza. A mio avviso Bitcoin potrebbe avere un balzo da questa zona per andare un po' più in su. Essendo che sto guardando il Nasdaq, che gli asset speculativi stanno performando bene. Infatti basta andare giù, vedere Microsoft, Apple e Nvidia come stanno performando. Penso che potrebbe esserci anche dalla parte delle crypto un pump a breve, diciamo. Comunque un pump a breve, non penso che questa sia la ripresa nel bull market. Però penso che ci potrebbe essere una possibilità di sfruttare un possibile buy in questa zona qui. Quindi andare in long o essere in long. Comunque andiamo a vedere anche USDT Dominance. Come vedete USDT Dominance anche qui abbiamo avuto la rottura di questa trendline. Quindi è estremamente bullish, però come vedete è rottura senza nessun tipo di ritest. Penso che questa zona qui possa rigettare. Quindi quello che sto guardando in questo momento è un possibile rigetto da quest'area. Questo darebbe respiro a Bitcoin per fare, diciamo, il suo pump da quest'area e andare verso l'alto. E probabilmente all'all coin anche di prendere un respiro dai continui dump che stanno subendo. Per quanto riguarda invece l'oro che abbiamo utilizzato l'altra volta. Noi siamo long però non sull'oro stesso, siamo long su una società che in questo momento anche sta andando bene il nostro trade. Comunque come vedete questo è un buy puramente tecnico. Penso comunque a lungo potrebbe scendere ancora un po' più in basso l'oro. Comunque andiamo a vedere come andremo nei prossimi giorni. Questo è un buy puramente tecnico. Come vedete è arrivato proprio nella zona più bassa del channel e in più ha incrociato il mio primo target per il buy. Se vi ricordate da quando l'oro era qui io parlavo del mio target dei 100, dei 1800, ok? Poi altra cosa andiamo a vedere il petrolio. Prima di chiudere. Allora petrolio abbiamo avuto in questo momento la situazione bullish ancora intatta come vedete qui, ok? Quindi abbiamo avuto anche un minimo più alto in questa zona. Infatti come vedete qui, anche se abbiamo avuto un rigiatto della trendline che solitamente è interpretata come bearish, però non abbiamo fatto un nuovo minimo. Quindi rimane la situazione bullish anche a livello macroeconomico, ok? Quindi bisogna vedere se da qui riusciamo a riprendere la zona. Comunque noi il long l'abbiamo già chiuso perché USO è un long ETF in leva. Comunque come vedete in questa situazione adesso ha rotto qui, solitamente a livello tecnico dovrebbe fare così, però essendo che abbiamo fatto un minimo più alto potrebbe essere che riprenda la zona della trendline per poi salire verso l'alto. Comunque con la situazione della guerra bisogna stare attenti perché anche l'analisi tecnica stessa ci dice che c'è qualcosa che non è chiaro. In senso abbiamo una rottura, un rigetto addirittura, quindi due cose bearish, però la struttura rimane bullish, ok? Quindi questo è uno scenario in cui come avete visto abbiamo fatto un trade veloce, abbiamo chiuso bene, fatemi vedere quant'è che abbiamo chiuso USO. USO l'abbiamo chiuso a un 6.4%, quindi non siamo andati, oddio stavo a perdere. Comunque come vedete 6.4% non ci siamo andati troppo di ignoranza, in senso comunque non è che hold per fare un 90%, però come vedete comunque ha fatto un buon profitto, siamo usciti e adesso sono in stato di osservazione. Comunque ragazzi questo è tutto per quanto riguarda il video di oggi, spero che vi sia piaciuto, lasciate un like, mi piace, fatemi sapere cosa ne pensate nel commento, ci vediamo al prossimo video.